Anche quest'anno l'amministrazione comunale di Alghero con gli assessorati allo sviluppo economico e al turismo, la fondazione Meta, col diretti e associazioni pescatori subacquei professionisti ha programmato una serie di iniziative per la riscoperta di uno tra i momenti più significativi dell'usanza marinaresca di Alghero. Torna infatti la tradizionale sagra del Boga Marie. Inclusività e lavoro di squadra sono i presupposti che ci guidano per il rilancio di una tradizione che fa di Alghero la meta preferita per tanti visitatori, ha spiegato Gabriele Esposito, assessore al turismo. I pescatori di Ricci, testimoni di una cultura lontana, oggi si organizzano all'interno di regole che cambiano e in collaborazione con Coldiretti prepara la sagra del Boga Marie. Un ritorno alle usanze che abbiamo voluto mantenere, aggiunge l'assessore Ornella Piras e che tra l'altro, grazie ai pescatori a Coldiretti, può offrire l'opportunità di vendere il prodotto a chilometro zero senza intermediazioni. Strategico il ruolo della fondazione Meta. La gastronomia legata al turismo, ha aggiunto il direttore Paolo Sirena, è un settore fondamentale che stiamo sostenendo con decisione. La sagra del Boga Marie, in programma dal 4 marzo al 2 aprile, si terrà nel mercato ittico del primo pescato situato nella banchina 1000 lire e ogni sabato e domenica la rassegna gastronomica mette in tavola il menù con protagonista il Riccio di Mare, contando sull'adesione di 20 ristoranti cittadini. Il miglior piatto verrà premiato con il Rosso di Mare insieme ad un personaggio che si è distinto nella promozione del territorio.